Sono troppo contento, ricordo che c'è un bel lavoro dietro della gente che mi ha sempre supportato, la mia famiglia, l'amorosa, i miei amici, quindi è una cosa bellissima, spettacolare. L'avevo fatto la girata, in realtà perfetta sul set, quindi... Pontissimo, giusto? Sì, sì, ponti, ponti, un cross bellissimo, tanta roba. Eh, lo so, anche secondo me, purtroppo, il primo tempo è andata così, loro hanno trovato il gol. Poi sono una squadra che qua giocano, un campo che loro conoscono, è troppo. Infatti è una cosa che loro giocano sempre qua, conoscono un po' l'attentitivo, conoscono il vento, però c'è questo campo, 1-0 sopra, dobbiamo fare di più. Per fortuna l'avevamo tirata fuori con quelli lì, come si dice. Questo è per fare capire ai tifosi che non ci siamo fino alla fine e ringraziamo anche i ragazzi che sono venuti qua. Noi la prima volta, io vado col petto, cioè l'avevo sul petto, mi spingono. Certamente l'ho toccato io con la mano, ma mi hanno spinto. E l'altro ha detto no, mano. Ah, l'assistente stava? E lui ha detto rigore, rigore, io ho sentito rigore e ho preso la palla. Però poi aveva detto, non so se l'assistente, aveva detto no, guarda l'avevo preso di mano. L'avevo preso di mano, però finito, l'avevo spinto, ce l'avevo sul petto proprio. Vabbè, lasciamo perdere, per fortuna è andata bene, oggi siamo contenti. Oh no, sono pronto, abbiamo deciso un po' così col mister che mi ha detto che ha fatto questa scelta, l'ho accettata perché penso che, come ho sempre detto, se entro ho provato a dare il mio contributo, per fortuna l'ho dato, quindi niente, non è più una scelta tecnica. Andiamo avanti, per fortuna sono entrato, ho dato questa mano, quindi siamo contenti così.